Sono uscita a sette e mezza. Una bravissima ragazza. La conosceva? Sì, molto, molto bene. Bravissima, bravissima. E il bambino? Il bambino stava bene, l'ho visto ieri, uscire di casa. Va bene. Lei mi ha detto che era un po' depressa, era un po' a depressione. E come deve essere che c'era un po' di problemi? Diceva che lei aveva un po' di problemi. Depressione può spare, è successo anche a me, sì, era un po' agitata, però stava bene. Era cinque anni che volevano questo bambino. Cinque anni, era una bravissima ragazza, bravissima, bravissima. Anche il marito, la nonna, tutti. Era una famiglia lunga, quindi? Molto, ma moltissimo, moltissimo. Dico io, penso che il bambino adesso parla.